Le buone notizie sono tali secondo il giudizio del Presidente Caldoro. Noi abbiamo delle perplessità che la presentazione del nuovo piano ospedaliero di modifica del Decreto 49 del 2010 abbia avuto una connotazione essenzialmente propagandistica in previsione delle elezioni regionali. Per questo motivo vogliamo vederci chiaro. Tra l'altro non c'è stato alcun passaggio in sede di Consiglio regionale eppure il Presidente Caldoro si era impegnato a portare il documento almeno all'attenzione della Commissione Sanità cosa che non è avvenuta. Gli atti sono invece stati predisposti e trasmessi direttamente per l'esame al Ministero della Salute. Io ho proposto al Capogruppo del Partito Democratico una iniziativa diretta con il Ministero della Salute affinché possiamo essere convocati e esprimere legittimamente le nostre posizioni e anche le preoccupazioni perché un piano è tale se è correlato a una dotazione finanziaria adeguata. E' inutile prevedere pronti soccorso, posti letto eccetera come ha detto Caldoro quando poi dobbiamo capire se ci sono le risorse per le assunzioni, per l'adeguamento delle attrezzature e per il miglioramento delle strutture immobiliari che hanno comunque bisogno di interventi. Quindi apriremo una fase di confronto politico per verificare che cosa effettivamente si potrà fare in sanità per la provincia di Salerno e per la regione Campania. Sulle assunzioni, sullo sblocco delle assunzioni? Sulle assunzioni anche in questo caso occorrono delle autorizzazioni, occorre un piano mirato. Quali sono le priorità? Io dico che bisognerebbe innanzitutto rafforzare il comparto dell'urgenza e dell'emergenza che è quello più carente, più a rischio. La fase della medicina di elezione o dei ricoveri programmati che è ugualmente importante potrebbe passare un attimo in secondo piano rispetto al rafforzamento del piano dell'urgenza e dell'emergenza perché i pronti soccorso, possiamo vedere a Salerno ma così dicasi per Nocera Inferiore o all'altro lato da Vallo della Lucania, sono tutti in grande difficoltà perché non riescono a reggere il ritmo delle chiamate continue che arrivano. Quindi è solo l'inizio di un cammino, è bene che i cittadini, gli utenti e gli operatori sappiano che ci sono tanti approfondimenti e chiarimenti ancora da fare.